Ciao a tutti e bentornati qui Chesanna in questo video dove finalmente testeremo le novità che ho acquistato nell'ultimo mese che sono riuscita a mettere ben bene alla prova e quindi sono pronta a dirvi cosa ne penso per quanto riguarda la base ci concentreremo sulle polveri mettendo in sfida il nuovo bronzer in polvere di Sephora con i nuovi perché ne ho acquistati addirittura due bronzer di NYX per quanto riguarda i blush parleremo dei chiacchieratissimi close up di Nabla il prossimo video invece sarà dedicato alle creme con gli stick da contour di Sephora e i 3 diverse blush di Mulac insomma ce ne sarà per tutti i gusti ma chiaramente parleremo anche di prodotti per gli occhi come gli ombretti di House Labs ma anche il mascara di Mesauda e i chiacchieratissimi beyond blurry di Nabla e non solo sono tantissimi prodotti quindi è meglio non perdere nemmeno un secondo vando alle ciance e cominciamo partiamo con l'idratazione delle mie labbra ed un lip oil di Mulac ovvero un tinted lip oil che io ho acquistato in realtà solo per poter avere la matita abbinata ovvero la matita rosata che si chiama Pink Matcha io adoro queste matite di Mulac adoro la shade rosata Sprinkles questa matita non è venduta singolarmente ero curiosissima di testare la shade Pink Matcha ovvero un rosato ma più nude quindi sono andata in negozio da Pinali e ho chiesto di poter avere quel kit quello con la matita rosata arrivata a casa la sera ho detto perché non testare il lip oil prima di andare a dormire per vedere se sia effettivamente idratante ma la brutta sorpresa è arrivata la mattina successiva quando ho aperto il kit per estrarre la matita e mi sono accorta che era quella marroncina mi scrivo la shade qui perché la commessa mi aveva dato il kit sbagliato io non me ne ero accorta dalla colorazione del lip oil quindi sono corsa sul sito a riordinare il kit con la matita rosata ma cosa ho deciso di fare? non ho toccato il lip oil abbinato alla matita rosata perché avevo già aperto lui e non avevo bisogno di un altro lip oil così come non ho toccato la matita marroncina perché non è assolutamente nelle mie corde ed ho ricreato questo kit frankensteiniano con il lip oil previsto per la matita rosata e la matita marroncina solo per voi perché almeno da questo errore verrà fuori qualcosa di carino un regalino per voi che mi seguite e mi supportate quindi la regola è sempre quella un bel commento con l'emoji della matita oppure del rossetto per poter partecipare all'estrazione di questo kit decisamente unico noi adesso possiamo passare all'applicazione del lip oil che utilizzerò come idratante per le mie labbra mentre realizzeremo il resto del look della matita rosata parleremo al momento del trucco labbra devo dire che non avevo come vi dicevo acquistato il kit per questo prodotto ma mi ha piacevolmente stupita perché? perché io non amo il lip oil appiccicosi e questo non lo è proprio per questa texture quasi in gel quasi in gelatina vado ad applicarlo questa è la shade più colorata quindi quella che arrivava nel kit con la matita marroncina la shade è la 03 ma come vedete dà solo un velo leggerissimo di colore sulle labbra quasi impercettibile quindi la colorazione secondo me non fa in realtà la differenza ma è un prodotto che mi è piaciuto molto proprio perché grazie a questa texture quasi jelly, gelatinosa non è per nulla appiccicoso il mio test in realtà è andato bene perché mi sono risvegliata al mattino con le labbra belle idratate quindi questa è un lip oil che mi piace, che approvo quindi nel male, nel dover acquistare due prodotti quantomeno mi piacciono entrambi noi invece partiamo con l'applicazione del bronzer tutti gli altri prodotti che ho sulla faccia li trovate giù in infobox vado a mettermi il mio solito cerchiello e possiamo cominciare con i bronzer e come vi dicevo metteremo a paragone i nuovi bronzer in polvere di Sephora con i nuovi bronzer in polvere di NYX cosa hanno in comune? il brand ce li ha venduti come dei bronzer in polvere sì ma fusionali e cremosi come fossero delle creme ma soprattutto con in comune almeno dalle immagini pubblicitarie un sottotono rosato sarà davvero così? andiamo a scoprirlo insieme partiamo dal bronzer di Sephora vi lascio il prezzo qui sullo schermo il pack è semplicissimo in plastica ma devo dire con un bel feeling molto carino se andiamo ad aprirlo abbiamo uno specchio e questo è il pen del bronzer che si chiama Golden Getaway ed è la shade numero 1 ovvero la più chiara capirete già così che forse quel sottotono rosato tanto sperato in realtà non c'è e quindi quella pubblicità era un pochino ingannevole i colori non erano poi così fedeli a quelli della realtà ma questo ero preparata perché è un bronzer che io ho deciso di acquistare in negozio se vado a toccare la cialda che come vedete è molto molto bella con il logo di Sephora il bronzer al tatto è davvero setosissimo e se vado a swatcharlo è effettivamente molto cremoso ben pigmentato ed ha un finish sì matt come vedete ma per nulla polveroso quindi pur non avendo nessuna particella luminosa all'interno è come se riflettesse un pochino la luce dandoci un bellissimo bellissimo effetto naturale con due ma questa è la shade numero 1 che dovrebbe essere la più chiara e come vedete è già bella bella presente io devo stare attenta quando la applico lo shade range non è intuitivo in negozio swatchato tutte e tre le shade che vi lascio qui sullo schermo la numero 2 paradossalmente era più chiara della numero 1 ma molto molto troppo gialla davvero aranciata quindi non faceva assolutamente al caso mio il secondo ma riguarda la profumazione fattore del tutto personale ma questo bronzer ha un'intensa intensa profumazione di monoi e quindi non riuscirei a sfruttarlo nelle giornate in cui le mie emicragne si fanno sentire perché è davvero una profumazione molto presente quasi invasiva che di per sé non mi dispiace ma essendo una profumazione floreale come vi dicevo è molto a rischio per le mie emicragne andiamo ad applicarlo vado con l'f13 di color pop che è un pennello sia a ventaglio ma molto più fluffy e molto meno denso del mio adorato pennellone di kiko quello della collezione lost in amalfi e quindi mi permette di sfumare meglio e prelevare meno prodotto perché questo bronzer in questo momento dell'anno è forse un pochino scuro per me andiamo ad applicarlo e come vedete però si applica e si sfuma in un attimo io avevo visto delle bellissime recensioni su questo bronzer su canali stranieri e devo dire che da questo punto di vista ho poco da dire se non il fatto che come potete vedere in questo momento si nota molto sulla mia pelle sulla mia mozzarellaitudine sarà perfetto su di me quando sarò un pochino più abbronzata morbido, setoso, si sfuma bene ha anche un bell'effetto quasi un po' riempitivo vista questa texture bella fusionale ed anche per quanto riguarda la tenuta si comporta molto molto bene quindi io non posso che confermare le ottime recensioni che ci sono su questi bronzer i due ma rimangono quelli dei quali vi ho parlato allo swatch primo ma totalmente soggettivo la profumazione se non amate le profumazioni troppo intenso siete a rischio e micrania andate ad annusarlo in negozio il secondo ma riguarda la shade molto molto scura troppo scura per essere la colorazione numero uno e quindi anche qui andate a swatcharli in negozio ma se avete la pelle molto molto chiara e non amate la shade numero due che è molto molto aranciata la shade numero uno rischia di essere troppo scura per voi anch'io come vedete ci sono dovuta andare pianissimo sarà un bronzer che sfrutterò sicuramente molto di più con l'arrivo dell'abbronzatura per quanto riguarda la formula però ho poco da dire assolutamente promosso andiamo adesso con i bronzer di NYX anche loro mi incuriosivano tantissimo per questo famoso sottotono rosato anche per loro non è così presente come lo era nelle immagini pubblicitarie ma più che nel bronzer di Sephora lo vedremo tra pochissimo allo swatch per quanto riguarda il pack io direi la verità lo trovo carino ho visto tante recensioni negative che dicono che è un pack scomodo a me nell'apertura sembra identico a quello del bronzer di Sephora ed io riesco a aprirlo tranquillamente anzi lo trovo decisamente carino da un punto di vista estetico se andiamo ad aprirlo questo è il pen con questo intarsio a onde come vi dicevo io ho acquistato due colorazioni la numero 1 e la numero 2 che adesso vado a swatcharvi questi bronzer al tatto come quello di Sephora se non di più sono davvero cremosissimi chiudendo gli occhi potrebbe quasi sembrarmi di andare a swatchare una crema con una differenza sono molto più polverosi rispetto al bronzer di Sephora vado a farvi gli swatch anche loro cremosissimi e pigmentatissimi fino da subito eccoli qui swatchati in alto la shade numero 1 di NYX in basso la numero 2 ho acquistato due shade perché era difficile capire se la numero 1 sarebbe stata troppo chiara per me in realtà si adatta molto molto bene ma si adatta anche la numero 2 che però sfrutterò di più con la stagione calda come vedete in questo caso un minimo sottotono rosato almeno c'è resta il fatto che non sono d'accordo con queste pubblicità un po' ingannevoli che ci spingono ad acquistare un prodotto magari online e poi a casa ce ne arriva uno totalmente diverso ma in questi due bronzer in effetti un minimo di sottotono rosato c'è e come vedete è molto molto diverso il finish vado un pochino ad avvicinarmi ma come vedete in questo caso il finish è leggermente satinato ma quel satinato che io amo che dà tridimensionalità al viso captando i giochi di luce ma senza nessun effetto metallico ne abbiamo parlato quando abbiamo recensito la nuova collezione estiva di Kiko se volete vi lascio il video qui nelle schede questo è quel satinato che mi piace quel satinato che non fa effetto illuminante ma è molto molto discreto ed ha un bellissimo effetto naturale in questo caso ancora una volta abbiamo due ma ma per me meno rilevanti il primo è che come vi dicevo essendo quasi cremoso al tatto questi bronzer sono più polverosi vedete che c'è un po' di polverina che gira nel pen rispetto a quello di Sephora che non è assolutamente polveroso quando lo preleviamo non c'è polvere nel pen il secondo ma riguarda ancora una volta la profumazione anche questi bronzer sono profumati ma in questo caso è una profumazione molto più dolce che piuttosto che verso il monoi vira verso il cocco e la vaniglia e che quindi in questo caso non mi dà assolutamente fastidio nemmeno quando soffro di emicrania vado con la shade più chiara ovvero la numero uno batta cap e con il pennellone questa volta quello della Sicilian Notes vado con la shade più chiara per farvi vedere che su un incarnato chiaro come il mio performa bene sappiate che però ho testato anche la shade numero due e riesco tranquillamente ad utilizzarla anche in questo periodo dell'anno in cui sono più chiara magari poi potremo andare a stratificarle vado a prelevarla con il pennello e come vedete questi bronzer sono polverosissimi c'è tutta la polvere nel pen perché basta toccarli con il pennello e spolverano e questo è dovuto alla texture come vi dicevo molto molto morbida molto molto setosa vado ad applicarlo sull'altra metà del viso come vedete la colorazione è molto più adatta a me in questo periodo si è fuso subito meglio con la mia pelle con un finish ed un effetto delicatissimo questi bronzer mi piacciono moltissimo io non ho nessun problema col fatto che siano polverosi vado a premerlo sulla mano prima di applicarlo e così evito ogni problema e come vedete anche in questo caso come per il bronzer di Sephora ha assolutamente fusionale sul viso e quel bronzer che ha lo swatch può sembrare quasi troppo chiaro si fonde molto molto bene con la mia pelle ed ha un filo di quel sottotono rosato che come vi dicevo mi aspettavo dagli immagini dalle immagini online anche loro proprio per questa caratteristica hanno un bellissimo effetto riempitivo fanno questo effetto pelle un po' di seta pelle da bambola ed anche loro si comportano molto molto bene dal punto di vista della tenuta vado leggermente a stratificare la colorazione più scura ovvero la numero due che sembra scurissima nel pen ma poi riesco tranquillamente come vi dicevo a far funzionare la differenza in realtà sta proprio nel finish che come vedete sul prodotto di NYX che sembrava tanto più luminoso allo swatch ci dà questo effetto però molto molto naturale senza nessuna particella luminosa ma solo questa sottile perlescenza che sul viso secondo me cattura benissimo benissimo la luce e che quindi per me non è assolutamente un malus sappiate che anche nella linea di Sephora era uscita una linea di bronzer luminosi che però mi ha lasciata davvero perplessa io li ho swatchati in negozio ancora una volta vi lascio le foto qui a lato le shade erano particolarissime la numero uno era talmente chiara e luminosa che sembrava quasi un illuminante piuttosto che un bronzer le shade insomma non mi hanno assolutamente convinta ed è per questo che ho deciso di rivolgermi alla versione matte come avrete capito queste due formule con le loro differenze mi sono piaciute entrambe ma forse un po' anche per la shade se fossi costretta a scegliere quale delle due mi piace di più forse sceglierei quella di NYX perché di bronzer matte ottimi sul mercato ce ne sono tanti penso a quello di Physicians Formula anche con una texture così bella cremosa ma trovare un bronzer con questa satinatura delicatissima con un effetto naturalissimo fusionale cremoso senza avere per nulla particelle luminose nessun glitter e per nulla questo effetto metallico che non mi piace è sicuramente più difficile e quindi questo forse rende i bronzer di NYX il prodotto tra i due che mi ha colpita di più nonostante quello di Sephora rimanga un ottimo ottimo prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo passiamo ora ai blush di Nabla sono andata a mescolare un pochino i bronzer tra loro per avere un effetto omogeneo nulla ci vieta di stratificarli di applicare quello della Sephora e poi quello di NYX per dare un pochina di luminosità noi passiamo ai nostri blush che trovo abbiano un pack davvero davvero molto bello elegantissimo ultimamente Nabla con i pack davvero ci regala delle perle ricordano un pochino la cipria in versione più piccolina e matte perché tutta la parte esterna ha proprio questo feeling matte che ricorda un pochino quello che secondo me ci immaginiamo da questi blush che si chiamano Blurring Powder Blush quindi questo effetto levigato pelle da bambola io ho deciso di acquistare due shade Enigma e Paradise al tatto questi blush sono particolarissimi perché non sono per nulla e ribadisco per nulla nemmeno se ci si impegna polverosi ed è strano perché i primi due ingredienti sono talco e mica che di per sé sarebbero polverosi ma quello che secondo me cambia tutto è il terzo ingrediente ovvero il dimeticone che è secondo me quello che dà questa texture molto molto particolare che è anche un silicone e questo sicuramente si ricollega al fatto che questi blush vengano definiti Blurring ovvero riempitivi il dimeticone è l'ingrediente principale di tutti i primer riempitivi presenti sul mercato se andiamo a sbocciarli eccole qui come vedete sono pigmentati quindi anche se al tatto ci sembra di non prelevare nulla poi la pigmentazione allo swatch cioè e fin dallo swatch il finish è totalmente totalmente matt ma sono talmente sottili che sono tutt'altro che polverosi o presenti sul viso io come vi dicevo ho deciso di acquistare due shade quella che vedete in alto è Enigma ovvero malva freddo che su di me risulta meno freddo di quanto si direbbe vedendolo nel pen che è un dettaglio che non mi dispiace assolutamente temevo andasse a spegnere troppo mentre la seconda shade è Paradise che è sicuramente un pescato aranciato bello acceso bello pop ma senza essere eccessivo senza eccedere in quell'effetto evidenziatore che voi lo sapete a me non piace ed è sicuramente una shade molto molto estima quando andiamo a prelevare questi blush con il pennello sembra di non prelevare nulla proprio perché non spolverano per nulla ma in realtà poi quando andiamo ad applicarli sul viso la colorazione c'è è semplicemente modulabile fattore che li rende sicuramente gestibili e comodi da sfruttare mi sono chiesta se siano anche pH reagenti in qualche modo perché all'inizio sembra di non applicare nulla poi si si aspetta la colorazione è come se comparisse sulle nostre guance ed è talmente sottile che sembra effettivamente l'effetto che potrebbe avere un lip stain un cheek tint quindi quei prodotti liquidi che penetrano nelle guance perché sembra proprio che il colore arrivi dalle nostre guance talmente la texture è sottile e impercettibile sul viso io sto applicando la shade enigma perché tanto fuori piove e quindi direi che questa shade aranciata è forse eccessiva per questo momento che dirvi a me questi blush piacciono molto li trovo davvero particolari proprio per questa texture sottilissima e per questo colore che sembra comparire all'improvviso sulle guance con un unico ma che non è in realtà un difetto ma sono sicura mi causerà un sacco di pomodori in faccia giù nei commenti quindi preparate la frutta e la verdura il ma è il fatto che se questi blush hanno un effetto riempitivo c'è è visibile i miei pori sono riempiti c'è del dimeticone come terzo ingrediente quindi inevitabilmente sono riempitivi ma secondo me il loro punto di forza non è l'effetto riempitivo mi spiego io ho dei blush in polvere che secondo me all'applicazione sono più riempitivi nella mia makeup collection parliamo ad esempio dei cloud crush di Too Faced io ho qui la shade Velvet Crush che come vedete è molto molto simile che andrò ad applicare dall'altra parte e quando sono andata a fare questo esperimento io trovo che i Velvet Crush siano in questo momento comunque più riempitivi sulle mie guance più leviganti sulle mie guance rispetto ai blush di Nabla è un problema? assolutamente no non lo è ma secondo me il punto di forza di questi blush non è l'effetto riempitivo anche se c'è ma il fatto che siano sottilissimi il fatto che questa colorazione sembra provenire dalle nostre guance perché per quanto riguarda l'effetto riempitivo ho altri blush altrettanto riempitivi nella mia makeup collection perché? perché cosa è che va a riempire i nostri pori? la materia perché se prendiamo una cipria in polvere libera le attamponiamo sui nostri pori con un puff riempi di più che una cipria compatta spolverata col pennello perché quei granellini della cipria polverosa andranno a riempire i nostri pori e a darci un effetto levigato la stessa cosa con questo blush questo blush di Too Faced che è in polvere quindi leggermente più polveroso va a riempire e levigare di più i miei pori rispetto a questo blush di Nabla è un problema? no perché la resa sul viso è bellissima e ancora più sottile ed è questo secondo me il punto di forza di questi blush che io approvo sono molto sottili sul viso come vi dicevo stratificabili attenti a non fare l'errore di dire non vedo nulla e di continuare ad applicarlo perché poi come vi dicevo la colorazione fuori esce ed è per questo che ho quasi meditato che siano un pochino pH reagenti texture incredibile sembra il colore delle nostre guance sembra di aver applicato come vi dicevo un lip stain colorato sulle guance l'effetto riempitivo c'è ma non è quello che mi colpisce di questi blush che mi hanno lasciata davvero senza parole per la texture sottilissima spero di essermi spiegata spero di non ricevere troppe lattughe in faccia giù nei commenti divertitevi pure a commentare con tanti pomodori se non siete d'accordo con me questi blush sono assolutamente assolutamente approvati anche dal punto di vista della tenuta e avrei definiti degli incredibili blush sottilissimi sul viso piuttosto che blurring perché sono meno blurring di altri blush nella mia makeup collection e noi possiamo passare agli occhi ho applicato al volo un po' del mio adorato illuminante di Anastasia Beverly Hills prodotto per gli occhi ve lo ho spoilerato nell'intro uno degli ombretti cremosi di House Labs che io ho visto in azione su un canale francese e che mi ha incuriosita tantissimo tanto da decidere di acquistarlo io ho acquistato la shade rose gold ovvero una colorazione shimmer perché questi ombretti sono presenti anche in tonalità totalmente matte mi aveva colpito perché in questo video sembrava che all'interno di questa texture metallica ci fossero comunque tante particelle che gli davano una bellissima bellissima luminosità ecco qui il tubetto più da vicino che è classicissimo ma molto molto carino e se andiamo a swatcharlo c'è un beccuccio applicatore ve lo swatcho qui a lato dei due blush e così fuoriesce l'ombretto che di per sé così non sembra nemmeno rosato ma poi se andiamo ad aprire la shade è effettivamente un rose gold quindi un mix tra rosato e nocciola voi allo swatch lo vedete luminosissimo si tratta di una texture morbidissima che si apre senza problemi con un bellissimo effetto metallico ma che all'interno della formula contiene tutta una serie di micro glitterini che si notano ancora di più se andiamo ad applicarne meno o andiamo ad aprire la formula micro glitterini che sono di diverse shade dorati argento lento rosa rose gold è bello è luminoso ma anche se in telecamera inganna come un pochino aveva ingannato anche me dal vivo sulla palpebra è meno impattante di quanto non mi sia sembrato nel video e di quanto non sembri adesso a me quando lo vedo nel ritorno della camera andiamo a parlarne applicandolo sugli occhi prima però vado a ricreare una transizione e per fare un look monocromatico vado a ricrearla con il blush di Nabla nella shade Enigma che come vedete performa benissimo anche come ombretto sulla palpebra poi prendo il mio ombretto liquido di Auslab ne applico un pochino sulla mano non serve premere troppo perché ne basta davvero pochissimo e poi vado a tamponarlo sulla palpebra meno ombretto applicherete più aprirete la formula più si vedranno i micro glitterini all'interno più ne applicherete più lo andrete a stratificare più sarà opaco me lo sono lanciato all'angolo interno e più si noterà anche l'effetto metallico quindi sarà un pochino a voi decidere come andare a modularlo come potete vedere non ho applicato nessun primer perché non è necessario questo ombretto si applica e si sfuma senza problemi anche senza un primer al di sopra sotto si setta ed ha una bellissima bellissima tenuta nel tempo ci dà un bel effetto sulla palpebra elegante con quel qualcosa in più dovuto alla bellissima luminosità ne applico un pochino su un ombretto piatto per riuscire a sfumarlo bene nella crisi io sull'applicazione e sulla tenuta di questi ombretti non ho assolutamente nulla da dire la resa è molto molto bella sulla palpebra e mi sento assolutamente di consigliarvelo con un ma la resa dal vivo è meno impattante di quella che vedete in camera dove si colgono tantissimo i micro riflessi dal vivo la resa è molto molto carina ma non mi ha fatto dire wow soprattutto se penso al prezzo 26 euro perché trovo che a 26 euro si trovano degli ombretti cremosi luminosi penso agli ombretti in pot di wikon o agli sweetie love di clio make up altrettanto belli e performanti ad un prezzo più accessibile tutto qui questo è il fattore che non mi ha fatta dire wow è un prodotto che sfrutterò comunque volentieri nel quotidiano una formula ottima che mi sento di consigliarvi che trovo forse un pochino troppo costosa rispetto ad altre alternative sul mercato anche se dal punto di vista della resa non ho nulla nulla da dire mi sarei semplicemente aspettata un filo di effetto wow in più e quando vi dico che hanno un'ottima tenuta hanno davvero un'ottima tenuta qui c'è dello struccante e non riesco a togliermi gli swatch dell'ombretto luminoso e quindi da questo punto di vista come vi dicevo assolutamente approvato io però vorrei andare a dare un pochino più di luminosità a questo look sarò eccessiva non lo so ma in realtà c'è un altro prodotto occhi del quale vorrei parlarvi che è un ombretto mono di sephora sephora è andata a far tornare finalmente presenti in gamma alcune shade che da tantissimo erano sold out con tante nuove shade dei loro ombretti mono ed io in negozio ho scoperto la shade twinkle twinkle che come dice il nome è un rosato molto molto twinkle luminoso eccolo qui sono i classici ombretti mono di sephora che si possono anche depottare molto facilmente ed inserire all'interno di palette magnetiche il pen sembra quasi marmorizzato la shade al tatto è morbidissima e si swatcha con un effetto una resa davvero davvero bella impattante come vedete sembra quasi del metallo fuso che per degli ombretti che costano circa 7 euro beh assolutamente ne vale la pena anche perché si nascondono tantissime diverse shade tantissimi diversi finish quindi basta andare in negozio e trovare le shade più adatte a noi twinkle twinkle secondo me si adatta molto molto bene a quello che è il suo nome perché è luminosissimo anche se ha bisogno di una piccola accortezza che andiamo a scoprire subito all'applicazione lo prelevo con le dita e lo vado a tamponare nella prima parte dell'occhio e come avete visto ci sono andata pianissimo perché il rischio di questi ombretti essendo la texture cremosissima è quella di andare a prelevare troppo prodotto e troppo prodotto vuol dire che applicandolo sulla palpebra e mi è successo la prima volta che l'ho applicato ci si crea quel bruttissimo effetto carta pesta con questa palpebra questa palpebra raggrinzita di rughe che non abbiamo ma sono create dall'ombretto che si evita tranquillamente prelevandole meno perché non serve applicarne troppo perché di per sé è già luminosissimo quindi prelevando poco prodotto poi la resa è bellissima come in questo caso vado anche con un pennellino piccolino a tamponarne un pochino all'angolo interno ed ecco fatto onestamente trovo che questi ombretti abbiano un ottimo rapporto qualità prezzo e per 7 euro c'è una vastissima scelta ci sono satinati ci sono luminosi glitterati ci sono metallici e ci sono anche semplicemente dei glitter di diverse colorazioni quindi senza base colore ma solo dei glitter che possiamo tamponare al di sopra di altri make up per quel prezzo secondo me vale assolutamente la pena di andare a dare un'occhiata in negozio ma non vi consiglierei di acquistarli online perché come vi ho detto sono molto molto cremosi al tatto e questo li rende molto molto friabili ho visto tantissime recensioni di persone alle quali questi ombretti sono arrivati rotti si ripressano in un attimo perché sono morbidissimi basta rischiacciarli nel pen ma per evitare questo inconveniente vi consiglierei assolutamente di andare ad acquistarli in negozio vado nella riva interna superiore con la matita ciocco di clio che come vedete per la seconda volta mi sto mangiando e nella rima interna con la mia piccola follia ovvero una fito col star waterproof nella colorazione sparkling pearl di sisley eccola qui matita luxury con un bel finish luxury eccola qui matita luxury con un bel feeling luxury qui abbiamo anche il temperino nonostante sia una matita retraibile io avevo visto una recensione ancora una volta su un canale francese di questa matita il canale è la loge de gabriel ed è una matita dorata ma un dorato né troppo scuro bronzeo né troppo freddo argenteo tempestato di micro glitterini argento questa matita mi ha colpita fin da subito sono andata a swatcharla dal vivo e me ne sono innamorata per la scrivenza perché è morbidissima per questo punto di oro che si adatta anche a una pelle chiara come la mia e per questi bei riflessi argentati era nella mia wish list da tantissimo quando l'ho trovata scontata del 30% ho ceduto all'acquisto vado ad applicarla nella rima interna queste matita hanno un'ottima ottima tenuta infatti sono waterproof scrivono molto molto bene sulla rima esterna ma anche come potete vedere nella rima interna ed hanno una bellissima bellissima luminosità l'applico un pochino anche qui sotto nella prima parte della rima ciliare inferiore un qualcosa di innovativo mai visto un prodotto senza il quale non potevo assolutamente vivere no ma un guilty pleasure che mi sono concessa nonostante il costo e nonostante il costo diversamente rispetto all'ombretto di houselabs non sono assolutamente pentita nel mio acquisto da quando l'ho acquistata non riesco a smettere di utilizzarla e quindi devo dire nonostante sia un prodotto molto molto costoso è una matita che mi piace moltissimo che sono felicissima di avere acquistato e che se come me avevate il wish list con un bello sconto nonostante il prezzo vi consiglierei di acquistare e testare perché non mi ha assolutamente delusa completiamo il look con il mascara il femulin di mesauda che avendo io le ciglia sparate dritte e questo mascara ha un bellissimo scovolino incurvato ed il claim di essere incurvante di darci un bel effetto panoramico non potevo assolutamente esimermi dal testare eccolo qui il pack devo dire io lo trovo bellissimo argento con in basso lievo la M di mesauda e scovolino incurvato in silicone una delle mie shape preferite e nemmeno troppo cicciottello quindi non rischiamo di fare pasticci sappiate che una volta aperta la formula mi sembrava un pochino troppo liquida adesso che è aperta da qualche settimana si è addensata e quindi voglio vedere come si comporterà oggi sulle mie ciglia che non ho incurvato con un piegaciglia proprio per vedere come se la cava questo mascara da solo mi avvicino un pochino per farvi vedere la resa da vicino questo scovolino riesce a prendere bene le ciglia e facendo questo movimento che sto facendo io riusciamo come vedete ad incurvarle per un effetto migliore ci vuole sicuramente il piegaciglia ma io ci tenevo a farvelo vedere in azione senza trucchi proprio perché questo mascara si vende come un mascara incurvante e con questo movimento si riesce sicuramente ad incurvare le nostre ciglia e voilà prima passata effetto incurvato le ha definite le ha allungate c'è un bell'effetto panoramico è comodo anche per le ciglia inferiori perché come vedete non è troppo grosso quindi non rischio di sporcarmi come vi dicevo all'inizio la formula mi sembrava un pochino troppo liquida adesso che è aperto da qualche settimana mi convince di più questo mascara riesce a darmi un bellissimo effetto panoramico ciglia belle aperte incurvate lunghezza e se andiamo e se andiamo a stratificarlo come sto facendo io anche quel tocco di volume e quindi come avrete capito questo mascara su di me e per le mie esigenze a me è piaciuto moltissimo ma ovviamente senza mascara con il mascara se state cercando un mascara volumizzante questo non sarà il mascara per voi ovviamente adesso mi sono sporcata perché non è in questo aspetto che sta la sua forza ma nella capacità di incurvare le ciglia e darci questo bellissimo effetto panoramico una bella lunghezza e un po' di volume con un unico ma mascara assolutamente promosso e consigliato semplicemente mi ha ricordato moltissimo un mascara che possego già e che è davvero molto molto simile ovvero il Love The Lift di Sephora è molto molto simile anche per quanto riguarda lo scovolino qui lo vedete in mini size quindi se possedete già questo mascara di Sephora o viceversa se possedete già quello di Mesauda non vi serve quello di Sephora perché li trovo davvero molto molto simili nella formula nello scovolino e nella resa ed infatti sono due mascara che mi piacciono moltissimo per quanto riguarda la tenuta questo mascara tiene molto molto bene non mi ritrovo pezzettini di mascara o mascara che cola sul viso quindi se è l'effetto che state cercando assolutamente consigliato eccolo anche sull'altro occhio e noi possiamo passare alle labbra dove andremo ad applicare appunto la matita pink matcha di Mulac voi lo sapete io amo queste matizze le trovate recensite in un video dedicato qui sul canale e quindi volevo assolutamente possedere questa shade rosata che come vedete è un rosato nude perché c'è una punta di marroncino per cronaca a titolo informativo ho scoperto che questa matita si sposa benissimo con un rossetto iconico di MAC Velvet Teddy e visto che non amo le matite di MAC eccole qui come vedete si sposano benissimo se cercavate un'ottima formula di matita da abbinare a Velvet Teddy di Mulac di MAC pink matcha di Mulac sarà perfetto come vedete si sposano benissimo benissimo insieme vado ad applicare la matita di Mulac eccola qui se il contorno labbra non è perfetto è tutta colpa mia perché ho dimenticato di là il temperino e questo è ciò che mi rimane della matita visto che mi piace molto l'ho già sfruttata un bel po' di volte andrò poi a sistemare il tutto con calma e noi possiamo andare ad applicare il rossetto ovvero uno dei nuovi Beyond Blurry di Nabla pack ancora una volta nulla da dire 10 elode esteticamente bellissimo io ho acquistato la shade celeste che trovo si sposi molto molto bene al colore del blush enigma e quindi si riesce a fare quasi un look monocromatico che come vedete è proprio un malva ed eccolo qui come vedete fin dallo swatch questi rossetti rispondono bene al loro claim perché Nabla li immagina come perfetti per uno stile molto sheer labbra coreane semplicemente tamponandoli o sfumandoli sulle labbra e quindi andando semplicemente a tamponarli dandoci quell'effetto appunto labbra leggerissimamente colorate che però a me non fa impazzire sarò l'unica al mondo e quindi io li ho applicati per poterli testare come se fossero dei classicissimi rossetti come vedete anche lui si sposa abbastanza bene alla matita di mulac è una shade che mi piace e che devo dire da questo punto di vista sono assolutamente contenta di aver acquistato anche la resa sulle labbra mi piace il finish toccando le labbra appena applicato è confortevole hanno proprio un finish siliconico e quindi torniamo a quel concetto di blurry di cui abbiamo parlato la resa mi piace anche applicati così ed è per questo che ho scelto una shade chiara ma ancora una volta e adesso mi prenderò ancora una volta tantissime 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 sassate perché so che questi rossetti sono amatissimi non sono d'accordissimo con il clima come sapete al di sotto avevo il prodotto mulac che è andato ad idratarmi le labbra ma nonostante questo questi rossetti e provo ad avvicinarmi per farvelo vedere vanno ad enfatizzare le pieghettine sulle mie labbra e io non soffro di labbra secche e c'era il prodotto di mulac al di sotto ma comunque nonostante questo anche così questo effetto secondo me dal vivo si nota il problema è che su di me si nota molto di più nel tempo cioè nel tempo quando questa formula va a settarsi io sento le mie labbra un pochino disseccate al di sotto e le sento un pochino tirare credo di aver fatto anche qualche foto durante i miei test con il passare del tempo sempre di più queste pieghettine che adesso sono appena appena percettibili si notano e quindi questo per me è in contrasto con il nome blurry perché su di me questi rossetti non vanno a blurrare le pieghettine sulle labbra anzi con il tempo le vanno ad enfatizzare e quindi io non li consiglierei a chi soffre di labbra secca o a zone di secchezza perché io non soffro di labbra secche e comunque mi fa questo effetto e comunque con il tempo io li sento diventare più disseccanti e noto ancora di più le mie pieghettine sulle labbra e quindi mi piacciono? sì sono perfetti per avere quello stile sheer coreano? sì in questo caso se ne applica secondo me anche meno e quindi si evita forse questo effetto un po' secchezza e questo effetto che fa notare le mie pieghettine perché chiaramente si applica meno prodotto applicati come rossetti io che non soffro di secchezza mi piacciono hanno questo bellissimo effetto matt vellutato ma non sono secondo me blurry come dice il claim quindi se cercate dei rossetti sheer non troppo pigmentati che possono darvi quell'effetto coreano sì se cercate dei rossetti che vadano a blurrarvi le labbra a minimizzare le vostre secchezze e le vostre pieghettine secondo me questo non sarà il prodotto per voi detto detto questo vi ho detto tutto quello che pensavo su questi rossetti e su questi prodotti fatemi sapere la vostra io i close up ve li lascio a fine video voi lo sapete potete essere tranquillamente in disaccordo con me l'importante è l'educazione vi aspetto giù nei commenti perché sono curiosissima di confrontarmi con voi soprattutto perché so che ad esempio questi rossetti sono amatissimi detto questo io spero che la mia onestà anche questa volta vi abbia fatto piacere che i miei consigli e le mie recensioni vi siano stati utili se così è stato mi raccomando non dimenticatevi un mi piace ancora più preziosa l'iscrizione al canale e noi ci vedremo con tutta la seconda parte novità nel prossimo video io vi mando come sempre un mega gigante grossissimo bacio e vi ricordo che se vi va io vi aspetto sempre qui cesanna ciao